La scorsa domenica a Zurigo abbiamo cantato un inno per la prima volta che è in collegamento con la Pentecoste e credo che sarebbe bello se lo cantassimo anche oggi, tutte le cinque strofe e chiedo di cantarlo in preghiera, chiedo a tutti i traduttori di tradurlo adeguatamente in ogni lingua. Dove il nostro fratello Eric Smith mi piacerebbe che lo cantasse lui ora. Vorresti farlo fratello Harry? No, Eric è qui, molto bene. Cantate semplicemente con noi il cantico numero 132. Cantico numero 132. Battezza con lo Spirito Santo e col fuoco i tuoi figli da vicino e da lontano. Affinché noi, oh Salvatore, possiamo servirti più fedelmente in questo tempo così sedio. Dona non solo doni, ma dona i frutti per mezzo dello Spirito che opera in noi. Che ognuno possa rinunciare volentoresamente alla forza della carne. Che ognuno possa rinunciare volentoresamente alla forza della carne. Battezza con lo Spirito Santo tutti i giovani figli di Dio. Stabilisci affinché ti lodino in nuove lingue in ogni tempo. Fai di loro dei profeti, Signore. Che lo Spirito possa usare come tu desideri. Quelli a cui piace servirlo. E ai quali piace pure rimanere tranquilli. Vattenza con lo Spirito Santo tutti i giovani figli di Dio. che sono già stanchi del loro camminare. Vattenza con lo Spirito Santo gli antiani e infresca lì, Signore. Rivela pienamente i tuoi misteri tramite sogni e visioni. Che il tuo Spirito operi in noi quello che la tua bocca ci ha promesso. Rivela pienamente i tuoi misteri tramite sogni e visioni. Rivela pienamente i tuoi misteri. 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 Battezza di nuovo con lo Spirito Santo, di nuovo quelli che sono già stati battezzati, che siano un greggio consacrato come i tuoi sacerdoti. Usa tu stesso i doni dello Spirito, prendici pienamente, tu ci avrai pienamente, che possiamo essere ripieni del tuo Spirito. A questo noi diciamo Amen. Un cantico meraviglioso e ogni strofa ha qualcosa in essa. Abbiamo naturalmente la promessa già nell'Antico Testamento che Dio negli ultimi giorni avrebbe sparso il suo Spirito sopra ogni carne. E noi abbiamo la conferma nel Nuovo Testamento che ciò è accaduto. Di recente c'è una frase nella mia mente. La parola di Dio produce fatti. Tutto ciò che il Signore ha proferito è accaduto. Ogni cosa che Egli ha promesso giunge a compimento. Se noi guardiamo alla narrazione in merito alla creazione e se riflettiamo solo per un momento su ciò che la parola di Dio compie realmente noi ritorniamo indietro a quello che il fratello Graf ha già menzionato. Non più mi scuglio ma essere separati sotto la guida dello Spirito Santo nella parola di Dio. e se è stato ancora detto quello che del continuo il fratello Graf ha enfatizzato entrambi saranno così vicini una è la parola originale e l'altra è l'interpretazione. Non si deve andare lontano. E' stato così sin dall'inizio e è accaduto così nel giardino dell'Eden. Il Signore Dio parlò e il nemico venne e la parola annunziata Egli la usò a modo proprio ed ebbe luogo l'interpretazione ed anche la caduta. Dunque non le interpretazioni ma l'originale parola di Dio possa dimorare in noi possa dimorare in noi affinché possiamo vedere ancora una volta la potenza di Dio lasciate che vi legga in Genesi capitolo 1 solo alcuni versi Genesi capitolo 1 noi leggiamo dal verso 1 nel principio Dio creò i cieli e la terra la terra era in forme e vuota le tenebre coprivano la faccia dell'abisso quale condizione senza speranza e lo Spirito di Dio alleggiava sulla superficie delle acque ed ora viene la cosa meravigliosa e Dio disse sia la luce e la luce fu la parola parlata nel momento successivo divenne un fatto compiuto Dio parlò e la cosa avvenne Egli comandò e la cosa avvenne le tenebre coprivano le acque e Dio disse sia la luce fino a questo giorno rimane in questo modo l'ordine della creazione divina rimane in questo modo e ci mostrerà ogni giorno ogni ora l'onnipotenza di Dio e al riguardo ci mostra che ogni parola che Dio ha proferito sfoggia nella realtà diventa un fatto ci si deve immaginare questo ancora una volta una condizione senza speranza e il Signore Dio proferisce una parola di potenza e nel momento successivo la condizione senza speranza termina il Signore Dio disse sia la luce e la luce fu e la cosa successiva Dio separò la luce dalle tenebre e chiamo la luce giorno e le tenebre notte io leggo un po' più avanti per mostrare ancora una volta la potenza di Dio e la potenza della sua parola affinché possiamo comprendere oggi che la parola di Dio l'onnipotenza di Dio è in essa e qualsiasi cosa Dio dice deve ed avrà luogo nel verso 6 nel verso 6 noi leggiamo poi Dio disse vi sia una distesa tra le acque che separi le acque dalle acque e così fu e così fu Dio lo disse ed accadde Dio lo disse ed accadde nel verso 8 Dio chiamò la distesa cielo fu sera poi fu mattina secondo giorno ciò mi sopraffa la parola di Dio opera dei fatti la parola di Dio non ritorna mai a vuoto la parola di Dio compie ciò per cui è stata mandata immaginate soltanto per un solo momento l'universo infinito è collegato a ciò che nulla era là parlando riguardo ad ebrei capitolo 11 che Dio tutto il mondo tutto l'universo Egli l'ha portato l'esistenza dal nulla tramite la sua parola potente fratelli e sorelle questa potenza è tuttora con Dio e la sua parola così è scritto il nostro Signore porta l'universo tramite la sua parola potente e dopo abbiamo la promessa cielo e terra passeranno ma la mia parola non passerà mai sia in Isaia capitolo 40 verso 8 sia in primo Pietro capitolo 1 verso 23 la parola di Dio rimane per sempre e Pietro dopo risalta e questa è la parola che vi abbiamo annunziato noi non predichiamo interpretazioni noi predichiamo la parola di Dio noi crediamo con tutto il nostro cuore che la Chiesa deve ritornare al principio tramite la potenza di Dio sarà riportata indietro poiché questa è la promessa in Zecheria capitolo 4 non accadrà né per potenza né per forza ma per lo Spirito mio ma se noi ci ricordiamo oggi dell'effusione dello Spirito Santo il mondo ha celebrato Pentecoste la scorsa domenica una vacanza pubblica ma Pentecoste è un'esperienza un'esperienza di salvezza di grande importanza la Chiesa era stata redenta sulla croce del Calvario il nostro Signore scese all'inferno e il terzo giorno risuscitò egli vinse la morte e l'inferno egli salì con ogni cosa e disse io vivo e voi vivete pure dopo e gli parlò 40 giorni con i suoi discepoli in merito al Regno di Dio e dopo rimassero solo 10 giorni fino all'effusione nello Spirito Santo fino all'instaurazione della Chiesa del Nuovo Testamento che fu riempita con la vita divina ecco come è iniziata la Chiesa con l'effusione dello Spirito Santo con l'opera soprannaturale in mezzo a quelli che udirono la parola per la prima volta tutti voi lo sapete Pietro predicò il primo sermone ed ecco che accadde 3000 persone secondo Atti capitolo 2 verso 41 sperimentarono la loro conversione e furono battezzati continuamente recentemente lo abbiamo enfatizzato non è stata la forza del sermone è stata l'opera dello Spirito Santo la predicazione fu accompagnata dallo Spirito di Dio lo Spirito di Dio era all'opera durante il sermone e tutti noi che crediamo con tutto il nostro cuore sappiamo che lo Spirito di Dio deve realmente operare ogni cosa egli deve convincere di peccato nessun uomo nessun uomo sarebbe in grado da se stesso di sapere cos'è il peccato nessun uomo sarebbe in grado di ravvedersi solo lo Spirito di Dio convince di peccato solo lo Spirito di Dio guida al ravvedimento solo lo Spirito di Dio guida in tutta la verità e così noi vediamo che il nostro Signore ha chiamato realmente i Suoi servitori sin dal principio per portare dentro la raccolta egli il seminatore seminò il buon seme e noi che siamo chiamati a predicare la parola e portarla nella raccolta noi possiamo avere parte in quello che Dio fa nel suo regno al riguardo vorrei leggere principalmente due scritture una in Matteo capitolo 9 per mostrare che il Signore da prima diede un incarico in generale e dopo nel capitolo 10 incaricò i 12 apostoli e poi nel Vangelo di Luca egli incaricò pure i 70 ma tutto è in collegamento con la raccolta che deve essere portata dentro Matteo capitolo 9 qui leggiamo dal verso 36 vedendo le folle ne ebbe compassione perché erano stanche e sinite come pecore che non hanno pastore allora disse ai suoi discepoli la messe è grande ma pochi sono gli operai pregate dunque il Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe in realtà è così che siamo diventati collaboratori di Dio come Paolo ha scritto in Corinzi noi non edifichiamo il nostro proprio regno non la nostra propria chiesa ma siamo parte del regno di Dio parte della chiesa di Gesù Cristo ora al tempo della fine dopo in Matteo capitolo 10 nel verso 1 noi leggiamo poi chiamati a sé i suoi dodici discepoli diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità e dopo abbiamo nel verso 8 da prima il verso 5 questi sono i dodici che Gesù mandò questi sono i dodici che Gesù mandò dando loro queste istruzioni non andate tra i pagani e non entrate in nessuna città dei samaritani ma andate piuttosto verso le pecore perdute della casa di Israele ecco come è iniziato Dio ha iniziato con Israele e terminerà con Israele nel mezzo c'è il tempo per le nazioni dopo abbiamo la promessa oppure in collegamento con quello ciò che è scritto in Luca capitolo 10 e questo è molto importante per noi che non soltanto dodici furono chiamati e mandati ma che dopo ne furono mandati 70 con lo stesso incarico Luca capitolo 10 verso 1 dopo queste cose il Signore designò altri 70 discepoli e li mandò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove egli stesso stava per andare ciò è veramente straordinario laddove il Signore vuole andare là egli manda i suoi messaggeri affinché essi possano proclamare il suo messaggio ed egli va con loro egli va con loro lo ripeto e gli mandava i suoi discepoli laddove egli stesso voleva andare ed egli li accompagnava e dopo accadeva che la raccolta era portata dentro verso 2 e diceva loro la messe è grande ma gli operai sono pochi pregate dunque il Signore della messe perché spinga degli operai nella sua messe Dio si è sempre preso cura che i suoi messaggeri predichino la sua parola fratelli e sorelle in ogni epoca ogni qualvolta Dio mandava un messaggio c'erano uomini che lo portavano e qui di quelli che il Signore stesso aveva chiamato è scritto di loro nel verso 16 in Luca capitolo 10 chi ascolta voi ascolta me e chi disprezza voi disprezza me e chi disprezza me disprezza colui che mi ha mandato qui qui abbiamo due cose fratelli e sorelle non andremo nei dettagli tuttavia sono stato molto criticato in tutto il mondo e specialmente quando si tratta di portare dentro la raccolta e dopo ci sono fratelli che leggono soltanto quello che realmente è accaduto proprio alla fine come ci viene detto in Matteo capitolo 3 Matteo capitolo 3 qui è annunziata direttamente la fine quando il Signore raccoglierà il suo grano nel suo granaio è quando egli arderà la pula con un fuoco inestinguibile Matteo capitolo 3 qui si potrebbe leggere dal verso 10 e in questo collegamento Giovanni disse io vi battezzo con acqua in vista del ravvedimento ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i calzari egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco e dopo viene questo potente salto fino alla fine egli ha il suo ventilabbro in mano ripulirà interamente la sua aia e raccoglierà il suo grano nel granaio ma ma brucerà la pula con fuoco inestinguibile qui abbiamo entrambi l'inizio il rivestimento con la potenza dall'alto per predicare il Vangelo che diventa soltanto la potenza di Dio per quelli che credono così è scritto in Romani capitolo 1 che quelli che credono per loro il Vangelo di Gesù Cristo diventa la potenza di Dio qui è scritto Romani capitolo 1 verso 16 infatti non mi vergogno del Vangelo perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede del giudeo prima e poi del greco fratelli e sorelle noi abbiamo complessivamente tre speciali aspetti che devono essere inclusi nella predicazione il primo è la parte evangelistica la proclamazione del Vangelo eterno di Gesù Cristo che Dio personalmente era in Gesù Cristo qui su questa terra e qui su questa terra dove hanno avuto luogo la caduta e la trasgressione e dove tutta l'umanità è stata trascinata nella morte qui in questa terra l'agnello di Dio è morto qui su questa terra il sangue divino è stato sparso nel quale c'era vita divina per redimerci e restaurarci nell'adozione come figli affinché possa essere adempiuto quello che è scritto nel Vangelo di Giovanni capitolo 1 versi 10 e 11 tutti quelli che non sono nati secondo la carne né da volontà d'uomo ma che sono nati da Dio deve accadere la proclamazione deve sfociare nella realtà se parliamo di conversione o predichiamo la conversione allora il sermone la predicazione deve produrre una conversione in quelli che ascoltano la parola se noi predichiamo ravvedimento allora la predicazione sotto l'opera dello Spirito Santo deve produrre deve diventare un fatto deve diventare un fatto la stessa cosa e con tutte le altre esperienze che possiamo fare con Dio noi abbiamo naturalmente il miglior esempio nella vita e nel ministero del fratello Branham nella prima generazione è stato Pietro Paolo i quali come uomini di Dio furono usati da Dio in modo speciale nel nostro tempo e questo possiamo confessarlo liberamente e apertamente è stato il fratello Branham e Dio decide da se stesso quel che fa egli non chiederà ad alcuno fino a questo giorno egli non ha mai chiesto ad alcuno ed egli per sempre non chiederà mai ad alcuno né in cielo né sulla terra egli non chiederà mai ad alcuno non ha bisogno di alcuno che lo consigli egli stesso è il consigliere il padre eterno il principe di pace egli è tutto in tutti tuttavia affinché noi possiamo udire e ricevere il messaggio di Dio perciò Dio in modo sovrannaturale come non era mai accaduto prima l'ha confermato e lo conferma di nuovo è una cosa se un uomo dice qualcosa ma è una cosa totalmente diversa se Dio è presente e quando Dio conferma la parola come se come se con tutti i profeti è stata la legittimazione divina non era l'uomo di Dio era Dio che poteva usare un uomo per rivelare la sua parola e la sua volontà al suo popolo e noi riconosciamo che Dio doveva scegliere un uomo non c'era altra via se se Dio ha dato la promessa io vi mando e paragona questo profeta Adelia prima che venga il giorno grande e terribile del Signore allora Dio doveva farlo non c'era altra via ogni promessa sfocia nell'attempimento ogni parola di Dio diventa realtà siamo sinceri ritorniamo indietro al principio del nuovo testamento Giovanni il Battista un uomo promesso da Dio voi potete leggerlo in Matteo capitolo 3 potete leggerlo in Matteo capitolo 11 potete leggerlo in Marco capitolo 1 potete leggerlo in Luca capitolo 3 potete leggerlo in Giovanni capitolo 1 un uomo mandato da Dio tuttavia in primo luogo era la parola e dopo accadde quello che la parola aveva predetto e se Dio dice che Egli avrebbe mandato il suo messaggero davanti alla sua faccia questa è una cosa ma quando il tempo giunge a compimento allora accade quello che Dio ha detto così noi abbiamo realmente la prova in tutto il nuovo testamento che ogni cosa che Dio ha detto quello che Gli ha promesso trova adempimento è diventato realtà Dio tratta solo con i fatti l'abbiamo letto prima Dio disse sia la luce un fatto cosa scrive Giovanni come introduzione nella sua lettera quello che hanno visto i nostri occhi quello che hanno udito le nostre orecchie quello che hanno toccato le nostre mani della parola della vita quello che abbiamo potuto toccare con le mani era là questo annunciamo a voi nel nostro tempo accade la stessa cosa e fratelli e sorelle voi sapete molto bene noi abbiamo più di 200 sermoni del fratello Brana disponibili in lingua tedesca e nulla può rendermi più felice di quando odo che questi sermoni vengono letti ed è stato così in tutti gli anni ma in tale maniera in modo così straordinario come nei tempi recenti continuamente ho sentito persone quale tipo di benedizione i sermoni del fratello Brana diventano per quelli che li leggono in preghiera e in tranquillità nelle loro case e lasciano che la parola penetri loro e dopo diventa il cibo spirituale di cui siamo partecipi osservate e in questo modo il fratello Brana quale profeta anche lui certe volte ha rimproverato le sorelle egli le correggeva io non faccio questo così tanto al massimo io leggo la saga scrittura predico il Vangelo e insegno le dottrine bibliche tuttavia appartiene a ciò appartiene a ciò che anche riguardo a questo ricevo ed accetto ogni cosa che Dio ha da dirci quando leggo in Deuteronomio capitolo 22 che una donna non indosserà abiti da uomo e l'uomo non indosserà vestiti da donna se io predicassi questo allora questo non si adatterebbe tanto a me ma se il fratello Brana dice sorella io ti avverto non lasciare che lo spirito di questo tempo venga su di te vestiti con moderazione lasciati crescere i capelli non essere come questo mondo eccetera eccetera e dopo se per esempio quello viene letto e ciò ha parlato alle persone ed essi reagiscono allora sono felici al riguardo tutti voi lo sapete l'incarico è realmente in modo duplice da un lato di andare di città in città e predicare la parola e per essere sincero non c'è nulla di più bello e il fratello Smith ed altri fratelli possono testimoniare a riguardo non c'è nulla di più bello di andare in altre città e trasmettere il consiglio di Dio riassumendolo per portarlo al popolo di Dio qui in questo luogo noi naturalmente andiamo sempre più in profondità nelle cose dottrinali ma in tutto il mondo realmente il consiglio di Dio viene mostrato in ogni dettaglio viene esposto e così è fatto l'inizio affinché le persone sia la conoscenza di quello che Dio ha promesso nel nostro tempo è quello che gli fa proprio ora tuttavia ancora una volta ritorniamo indietro all'inizio vale a dire che lo spirito di Dio doveva essere all'opera persino in Genesi capitolo 1 se lo spirito di Dio non avesse alleggiato sull'abisso cosa sarebbe accaduto cosa sarebbe accaduto allora fratelli e sorelle se Pietro avesse semplicemente parlato e lo spirito di Dio non fosse stato presente e non fosse stato all'opera cosa sarebbe accaduto allora e se per esempio ritorniamo indietro a quello che significa Pentecoste il covone dei primi frutti tutti voi sapete che Dio nell'Antico Testamento egli preadombrò ogni cosa ciò che sarebbe poi diventato una realtà la Pasqua aveva il suo significato la festa della raccolta aveva il suo significato il covone che veniva agitato davanti al Signore aveva il suo significato in tutto l'Antico Testamento quello che sarebbe accaduto con la Chiesa del Nuovo Testamento era stato già preadombrato lasciatemi leggere giusto alcune scritture per mostrarvi basandomi sulla parola di Dio come già nell'Antico Testamento fu posto il fondamento per quello che sarebbe accaduto nel Nuovo al riguardo affinché l'abbiamo dall'inizio la parola tedesca Fingsten è la parola Pentecoste e la parola Pentecoste significa cinquantesimo il cinquantesimo giorno Pentecoste significa cinquantesimo cinquantesimo il cinquantesimo giorno e noi vedremo come le profezie della Bibbia già nell'Antico Testamento come ogni cosa fu messa in ordine piazzata da Dio in ordine qui in Esodo capitolo 23 dal verso 14 Esodo capitolo 23 tre volte tre volte all'anno mi celebrerai una festa osserverai la festa degli azimi per sette giorni mangerai pane azimo come te l'ho ordinato e così via dopo nel verso 16 osserverai la festa della mietitura noi ritorniamo indietro alla raccolta la messa è grande ma gli operai sono pochi qui abbiamo la festa della mietitura il covone delle primizie era consacrato a Dio andiamo avanti in Levitico capitolo 23 qui abbiamo ancora una volta l'ordine come ogni cosa nell'Antico Testamento come ogni cosa è stata detta e fatta nell'Antico Testamento Levitico capitolo 23 dal verso 9 il Signore disse ancora a Mosè parla ai figli di Israele e di loro quando sarete entrati nel paese che io vi do e ne mieterete la raccolta porterete al sacerdote un fascio di spighe come primizia della vostra raccolta nel verso 11 dice il sacerdote agiterà il fascio di spighe davanti al Signore perché sia gradito per il vostro bene l'agiterà il giorno dopo il sabato perché il giorno dopo il sabato il popolo di Israele era naturalmente vincolato al sabato il sabato era il segno del patto tra Israele e Dio ma qui si tratta del giorno dopo il sabato quando è stato il giorno della risurrezione il primo giorno il giorno dopo il sabato il sabato era un totale riposo un totale riposo lì il Signore ripoliva di sotto ma qui era un totale riposo tuttavia dopo il primo giorno della settimana egli risuscitò dopo qui in Levitico capitolo 23 dal verso 15 dall'indomani del sabato dal giorno che avrete portato l'offerta agitata del fascio di spighe conterete sette settimane intere conterete 50 giorni fino all'indomani del settimo sabato e offrirete al Signore una nuova oblazione porterete dai luoghi dove abiterete due pani per un'offerta agitata porterete dai luoghi dove abiterete due pani per un'offerta agitata cosa significano i due pani chiunque viene dalla campagna ed è abbastanza grande sa come il grano era raccolto con la falce e come le spighe erano legate insieme come erano messe su e si intrecciava il covone ma qui il covone delle primizie deve essere così intrecciato e legato insieme in modo inseparabile formando un'unità ma solo il covone delle primizie fratelli e sorelle Gesù Cristo è il primo genito e noi siamo nati di nuovo dallo stesso spirito noi siamo ordinati a formare le primizie il covone delle primizie e noi vediamo che il giorno di Pentecoste essi erano di un solo cuore e di una sola anima e allo stesso modo deve accadere con noi fratelli e sorelle io personalmente non ho nulla contro se le persone portano qui le proprie opinioni io non ho nulla contro ma se dopo portano di nuovo con loro le proprie opinioni questo questo non è buono secondo la mia opinione credo che tutti noi veniamo da diverse denominazioni da diverse nazioni da diverse culture ed abbiamo diverse dottrine che un tempo erano forse veramente preziose per noi tuttavia con questo tutti voi potete venire qui però dovete lasciarle qui tutti voi dovete lasciarle qui qui Dio vuole fare qualcosa di nuovo e qui non deve avere luogo più alcun miscuglio nessun collegamento con strane dottrine noi siamo avvisati di questo nell'Antico Testamento erano le nazioni vicine con le quali il popolo di Israele non doveva mischiarsi oggi la Chiesa di Gesù Cristo quale covone delle primizie essa si separa senza alcun miscuglio e con questo possiamo sussistere davanti a Dio lo ripeto ancora una volta ne possiamo portare qui ogni cosa solo che dobbiamo lasciarle qui portandole sotto la croce portandole sotto la croce dicendo caro Signore non sono qui per dirti la mia opinione la mia veduta sono qui per essere ammaestrato dalla tua parola e dal tuo spirito e dopo tutti noi arriviamo all'unità della fede e della conoscenza fino a quello che Paolo ha scritto ai filippesi se qualcuno in mezzo a voi ha tuttora qualche difficoltà a comprendere allora Paolo scrive possa Dio rivelarglielo dunque lasciate che riassumiamo di cosa si tratta nell'Antico Testamento la raccolta le primizie del grano ci è stata mostrata Gesù Cristo quale chicco di grano è caduto nel terreno ed è morto così è scritto in Giovanni capitolo 12 gli disse se il chicco di grano non cade a terra e muore allora rimane da solo ma se muore allora porterà molto frutto e così è accaduto il figlio di Dio è morto per tutti i figli e le figlie di Dio egli è il primogenito e noi siamo pure primogeniti per portarci avanti per darci l'adozione di figli per collegarci e unirci con lui e gli uni gli altri io credo che accade sempre di più ora che sentiamo sempre più il collegamento gli uni con gli altri fratelli e sorelle nella presenza di Dio ognuno esamini se stesso dopo non si tratta più del fratello tal dei tali o della sorella tal dei tali si tratta di voi si tratta di me si tratta di ognuno di noi e se noi appariamo sinceramente onestamente davanti al Signore dicendo Signore tu ci hai dato il privilegio di far parte dei primogeniti del grano che tu tu stesso hai seminato si potrebbe andare in Matteo capitolo 13 non l'abbiamo detto molte volte in questo luogo l'abbiamo letto molte volte il Signore è il buon seminatore o per meglio dire il seminatore che semina il buon seme il campo è il mondo e i figli del regno di Dio sono la raccolta che deve essere portata dentro qui l'abbiamo in Matteo capitolo 13 versi 37 e 38 egli rispose loro colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo il campo è il mondo il buon seme sono i figli del regno le zizzanie sono i figli del maligno il nemico che li asseminate è il diavolo la mietitura è la fine dell'età presente i mietitori sono angeli ora siamo mandati nella raccolta ma proprio alla fine proprio alla fine e questo ve lo leggo non sarà più un predicatore né un profeta ma accadrà tramite Dio stesso come scritto in Apocalisse capitolo 14 in merito a queste due raccolte che avranno luogo proprio alla fine ma questa è una cosa totalmente diversa Apocalisse capitolo 14 dal verso 14 poi guardai e vedi una nube bianca e sulla nube stava seduto uno simile a un figlio d'uomo che aveva sul capo una corona d'oro e in mano una falce affilata un altro angelo uscì dal tempio gridando a gran voce a quello che stava seduto sulla nube metti mano alla tua falce e mieti poiché è giunta l'ora di mietere perché la messe della terra è matura colui che era seduto sulla nube lanciò la sua falce sulla terra e la terra fu mietuta in quel tempo io non voglio essere più sulla terra noi siamo qui ora dove una raccolta dove una raccolta di anime è portata dentro per mostrare quel che è collegato a ciò leggiamo dal verso 17 in Apocalisse capitolo 14 poi dal tempio che nel cielo uscì un altro angelo anche egli aveva una falce affilata è un altro angelo che aveva potere sul fuoco uscì dall'altare e gridò a gran voce a quello che aveva la falce affilata metti mano alla tua falce affilata e vendemmia i grappoli della vigna della terra perché le sue uve sono mature l'angelo lanciò la sua falce sulla terra e vendemmiò la vigna della terra e gettò l'uva nel grande tino dell'ira di Dio il tino fu pigiato fuori della città ed al tino uscì tanto sangue che giungeva fino al morso dei cavalli per una distesa di 1600 stadi io leggo questo con lo scopo perché i fratelli mischiano le scritture non le piazzano biblicamente e dopo arrivano alle proprie interpretazioni fratelli e sorelle la cosa più preziosa che Dio potrebbe darci è in primo luogo di avere riverenza davanti a lui riverenza davanti alla sua parola e astenersi astenersi da ogni interpretazione noi lasciamo ogni parola di Dio così come scritta nel contesto in cui appartiene e chiunque vuole alzare lo sguardo ha solo bisogno di leggere nell'antico testamento nel profeta Gioele e nel profeta Isaia Isaia capitolo 63 per conoscere quando saranno adempiute queste scritture che abbiamo appena letto io leggo soltanto alcune righe dal verso 2 Isaia capitolo 63 dal verso 2 perché questo rosso sul tuo mantello è perché le tue vesti sono come quelle di chi calca l'uva nel tino in Apocalisse 14 abbiamo letto del tino qui leggiamo di colui che calca il tino io sono stato solo a calcare l'uva nel tino e nessun uomo di fra i popoli è stato con me e via dicendo io li ho calcati nella mia ira li ho calpestati nel mio furore e così via questo è già il giorno dell'ira questa è l'introduzione nel giorno del Signore nel giorno dell'ira nel giorno della rese dei conti quel che concerne noi noi siamo ancora nel tempo della grazia il Signore manda ancora operai nella sua messe e la sua raccolta è tuttora portata dentro poiché nel momento in cui l'ultimo entra allora si chiude la porta ed ha luogo il ritorno del Signore dunque noi abbiamo ricevuto il grande privilegio da Dio ora alla fine del tempo della grazia quale primizie di essere portati davanti a Dio essendo consacrati a Lui per favore non dimenticate la parola di Dio sfocia sempre nella realtà compie sempre ciò per cui è stata mandata lasciate che riassumiamo di cosa si tratta prima che lo menzioni c'è la parte evangelistica che la chiara e pura parola di Dio quale evangelio eterno sia predicata quale evangelio che diventa la potenza di Dio per tutti quelli che credono il messaggio di Dio che i prigionieri siano realmente liberati che la potenza di Dio sia manifestata quelli che sono seduti in prigione escano fuori questa è stata la predicazione del nostro Signore in quel tempo lo spirito del Signore Dio è sopra di me e gli disse per predicarvi la buona novella che i prigionieri siano liberati e dopo la parte di insegnamento è proprio così importante e Dio non permette alla sua chiesa di camminare avanti e gli dice fermati da me dice il Signore viene l'insegnamento oggi ho detto pure nel nostro programma televisivo in lingua tedesca non quello che i padri della chiesa hanno deciso è ciò che è stato dichiarato come dottrina apostolica è chiamato apostolico le dottrine che sono state formulate nel terzo e nel quarto secolo in quel tempo ascoltate attentamente in quel tempo quando il paganesimo fu pressato nel cristianesimo e il cristianesimo fu naturalizzato e dopo divenne una religione di stato in quel tempo iniziarono a formulare la Deità ed immaginare la Deità ed è scritto tutti voi lo sapete molto bene i Cieli dei Cieli non ti possono contenere chi vorrebbe spiegare Dio è impossibile Dio è spirito e Dio rivela a se stesso è colui che rivela a se stesso a noi noi lo riconosciamo e Gesù Cristo il nostro Signore poteva dire chi ha visto me ha visto il Padre dunque se ora veniamo qui e crediamo che per esempio il credo di Vincea e Calcedonia ha la sua origine con gli Apostoli allora bisogna dire questo non è giusto l'origine della dottrina degli Apostoli è in questo libro in nessun altro libro sulla Terra e se dopo è scritto in Atti capitolo 2 verso 42 ed esse rimanevano nella dottrina degli Apostoli allora con questo non si intende dire quello che Atanasio o Agostino o qualcuno ha detto e formulato in un certo tempo sia nel 325 Anicea o nel 381 a Calcedonia oppure in altri concili ma quello che è biblico è biblico e tutto quello che è scritto in altri libri non ha un diritto uguale con la Bibbia questo dobbiamo programmarlo forte e chiaro Dio parla alla sua Chiesa realmente soltanto attraverso la sua parola che teniamo nelle nostre mani e nel nostro cuore nella stessa maniera con il battesimo naturalmente non si tratta di argomentare le parole si tratta di adempiere precisamente il grande incarico e battezzare come Pietro Paolo e Filippo battezzavano cosa ne faccio di un battesimo trinitario che è chiamato nella storia della Chiesa come battesimo del credo romano noi non ne abbiamo bisogno per favore perdonatemi l'enfasi su questo ma l'ho detto per lo scopo di dire o per evidenziare che noi veniamo in questo luogo con varie vedute e opinioni varie dottrine e dobbiamo lasciarle qui dobbiamo andare da qui con gli insegnamenti biblici dobbiamo andarcene da qui con un allineamento biblico affinché possiamo essere agitati davanti a Dio essendo di un solo cuore e di una sola anima dopo se la potenza dello Spirito Santo scende allora accadrà come al principio che migliaia ed io realmente onestamente conto su ciò conto che prima del ritorno di Gesù Cristo in una tale raccolta di anime come mai il mondo abbia mai visto prima Dio ancora una volta nell'ultimo tempo farà grandi cose ma la Chiesa la Chiesa deve diventare il luogo di manifestazione di Dio la Chiesa deve diventare il luogo dove la potenza di Dio possa essere manifestata e tutti quelli che dopo ascoltano la parola di Dio durante il sermone saranno convinti dallo Spirito di Dio saranno guidati al ravvedimento e sperimentano dopo la loro conversione tramite la sua grazia dunque non solo non solo il ricordo di Pentecoste ma la promessa io restaurerò tutte le cose vi restaurerò di tutte le annate ogni cosa è stata divorata come il profeta Gioele l'ha espresso il primo sermone o uno dei primi sermoni del fratello Branham è stato riguardo la parola del profeta Gioele probabilmente è stato persino il primo sermone che in quel tempo nell'agosto del 1955 io ho udito che Dio restaurerà ogni cosa quello che la Chiesa del Nuovo Testamento aveva al principio lasciate che perseveriamo crediamo poiché la parola di Dio sfocia sempre nella realtà ed io ho detto prima nell'Antico Testamento la promessa nel Nuovo Testamento l'adempimento nell'Antico la progenie verrà nel Nuovo è accaduto la parola fu fatta carne ed ha dimorato in mezzo a noi Giovanni un profeta promesso quando il tempo fu compiuto e gli venne sulla scena tutto ciò che Dio dice nella sua parola accadrà come dice un poema tedesco la sua parola non inganna mai Dio mantiene le sue promesse a lui il Dio unipotente che ora chiama il suo popolo da ogni popolo lingua e nazione fratelli e sorelle lasciatemi dire anche questo qui il giorno di 20 agosto c'erano 16 o 17 nazionalità diverse radunate persino la parola arabi è scritta nel libro degli atti persino libici è scritto nel libro degli atti nel capitolo 2 essi erano radunati da ogni nazione vennero a Gerusalemme e lì accadde perché Dio aveva dato la promessa fratelli e sorelle lo domando a noi stessi perché Dio ci ha chiamato da ogni popolo lingua e nazione perché le frontiere sono state battute perché ogni cosa diventa come è diventata negli ultimi anni fratelli e sorelle noi viviamo alla fine del tempo della grazia e credetemi continuamente un amen dall'assemblea sarebbe la giusta cosa sì sarebbe la giusta cosa il Signore Dio ci ha destinato in questo tempo ad ascoltare la sua santa parola ed averla rivelata e piazzarla biblicamente anche il ministero del fratello Brana è tutto quello che gli ha insegnato piazzarlo biblicamente realmente non è rimasta una domanda alla quale non si è stata data una risposta non ci sono più cose enigmatiche noi ringraziamo Dio per la perfetta introduzione nella parola nel piano di salvezza senza i nostri propri sforzi noi abbiamo semplicemente creduto e il Signore ci ha ricevuti e ci benedice fratelli e sorelle concludo con il pensiero se noi possiamo credere quello che Dio ha promesso per questo tempo con questo abbiamo l'evidenza che apparteniamo a quel gregge che è chiamato fuori che è separato che è preparato per il rapimento tramite la sua grazia anche questo l'abbiamo detto molte volte come Israele è radunato nella terra promessa così il popolo di Dio da ogni popolo lingua da ogni chiesa e denominazione è radunato sotto il richiamo della parola di Dio nelle promesse di Dio e io vi dico un giorno il rapimento sarà una realtà divina il mutamento dei nostri corpi sarà una realtà la resurrezione dei morti sarà una realtà ogni cosa esattamente ogni cosa che Dio ha promesso nella sua parola sfocia nella realtà e noi ringraziamo Dio anche il mutamento dei nostri corpi avverrà avverrà credetelo credetelo con tutto il vostro cuore il mutamento accadrà nel momento nel momento in cui suonerà la tromba di Dio e quando la voce dell'arcangelo sarà udita e quando il Signore discenderà i morti in Cristo risusciteranno per primi e noi che siamo in vita saremo mutati in merito alla salvezza non dobbiamo preoccuparci Dio l'ha fatto ogni cosa è nella redenzione e Dio dico chiaramente la resurrezione del nostro Signore è la garanzia per la nostra resurrezione la sua ascensione è la garanzia per la nostra ascensione egli è andato a preparare un posto per noi e verrà di nuovo per portarci a sé affinché possiamo essere laddove è pure lui fratelli e sorelle preziosi amici possa il Signore Dio tramite la sua grazia mettere i pezzi di questa predicazione insieme per essere intera noi siamo chiamati fuori come covone di primizie chiamati fuori e siamo uniti insieme diventiamo di un solo cuore e di una sola anima e ci rendiamo disponibili a Dio ci consacriamo a Lui affinché Egli possa avere il suo diritto nella Chiesa tramite la sua grazia noi crediamo con tutto il nostro cuore e Dio farà ogni altra cosa a Lui al nostro Dio che ci ha amati così tanto e che ha dato la sua vita per noi sulla croce del Calvario Egli è risuscitato Egli ha realmente vinto ogni cosa come non ci darebbe Dio ogni cosa in Lui Egli ci ha dato ogni cosa in Gesù Cristo il nostro Signore benedetto e lodato sia il suo santo nome Alleluia Amen Alziamoci in piedi per pregare forse cantiamo pure ora il coro ben conosciuto così qual sono il coro il coro il coro Noi l'abbiamo detto, in primo luogo Dio rivela il suo piano di salvezza donando le promesse, anche la promessa dell'effusione dello Spirito Santo. È avvenuto quando il tempo è stato adempiuto. Fratelli e sorelle, la promessa è diventata una realtà divina. Luce e vita sono venute nella Chiesa e lo Spirito di Dio alleggiava e riempì ognuno con lo Spirito Santo. Essi parlavano in altre lingue, secondo come lo Spirito si esprimeva. E tutti si meravigliavano, Medi, Persiani, Elamiti. Tutti si meravigliavano che le grandi opere di Dio erano proclamate. Fratelli e sorelle, anche noi siamo meravigliati che Dio ci riferisce in tutte le lingue dei miracoli che Egli ha fatto, dell'attempimento delle promesse. Naturalmente ciò raggiunge tutto il mondo e noi chiediamo a tutti quelli che sono uniti a noi e con Dio da un'estremità della terra all'altra. Siate benedetti nel nome del Signore. Dio ha guardato con misericordia sul suo popolo. Egli si è rivelato a noi. Ha rivelato il suo piano di salvezza. Ha posto le promesse nei nostri cuori ed Egli vigila su esse per adempierle. Ed è accaduto e continua ad accadere finché l'ultima promessa troverà adempimento. Dio non è mai in ritardo. Benedetto e lodato sia il suo meraviglioso nome. Cari fratelli e sorelle, preziosi amici, ci sono oggi in mezzo a noi, giovani o anziani, da qualunque nazione possa essere, c'è ancora qualcuno che non ha ancora consacrato la vita al Signore, che non ha ancora sfermentato una conversione, che non cammina ancora nella via dell'ubbidienza e della fede, che non è ancora entrato per la porta stretta, che non ha ancora ricevuto Gesù Cristo come personale salvatore, fatelo ora, fatelo ora. Il Signore passa proprio ora. Egli bussa ad ognuno di noi e dopo una parola a tutti quelli che sono ancora legati in vari modi e che non possono aiutare se stessi, non possono liberare se stessi. Con Dio ogni cosa è possibile. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi è in eterno. Egli persino dice a tutti, oggi gli dice, venite a me voi tutti che siete stanchi ed aggravati. Io vi figherò, io darò riposo alle anime vostre. Non solo l'insegnamento, non solo la parola della profezia. Le cose che appartengono all'inizio devono in primo luogo trovare adempimento. Posso a Dio dare grazia che questo giorno diventi un giorno di salvezza per tutti noi. E i nostri fratelli, anche in tutto il mondo, possano piazzare ciò che è inteso per la raccolta in cui noi, come operai, siamo stati chiamati. E cosa si intende dire con l'ultima raccolta? E il Signore affilerà la falce e falcerà la vigna della terra e la getterà nel tino. cari fratelli e sorelle, oggi vogliamo pregare da questo luogo affinché Dio possa aiutare tutti i fratelli del ministero in tutta la terra, che dia loro grazia di essere guidati in ogni verità per mezzo del suo spirito, finché tutti arriviamo all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio. E' realmente l'opera del nemico, tramite interpretazioni, dividere il corpo del Signore continuamente. L'opera di Dio sta nel fatto che tutti prestano ascolto alla voce del Buon Pastore, ritornando al Signore, lasciando che conti soltanto la parola di Dio e in questa parola essere santificati. possa accadere innanzitutto con noi che predichiamo la parola e dopo con tutti quelli che ascoltano la parola di Dio dalla nostra bocca. Cari fratelli, in tutta la terra, il ritorno di Gesù Cristo è molto vicino, non siate un ostacolo, ma siate ministri che tolgono ogni ostacolo dalla via, ogni pietra d'inciampo dalla via, affinché la gloria di Dio possa essere manifestata. Ogni interpretazione è una pietra d'inciampo e perciò tutte le interpretazioni devono essere rimosse, affinché possa essere preparata la via al Signore e così la gloria di Dio possa essere manifestata in mezzo al popolo di Dio, in modo che la fine possa essere e sarà come è stato l'inizio. Benedetto e lodato sia il Signore nostro Dio. Alleluia, 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 alleluia. Grande Dio, veniamo con tutti quelli che ora consacrano la vita a te, quelli ai quali tu hai parlato, a quelli che hai chiamato. Io ti prego di rivelarti loro. Continua a parlare con ognuno di noi, affinché tutti noi siamo ammaestrati da Dio, affinché tu possa guidarci in ogni verità per mezzo del tuo Spirito. Prezioso Signore, dammi la grazia di riconoscere quello che è nella tua via. Donaci tutta la grazia di esaminare noi stessi nella tua presenza e di venire a te. Signore, noi abbiamo un solo desiderio, oh Signore. Abbi il tuo diritto con ognuno di noi e dopo con tutta la Chiesa, affinché la potenza di Dio e la gloria di Dio possa essere manifestata nella Chiesa di Gesù Cristo, il nostro Signore. Io ti ringrazio, poiché tu salvi i perduti, guarisci i malati e liberi quelli che sono prigionieri. E' compiuto e tu riveli a noi te stesso. Abbi la tua propria via con tutti noi e tutto il popolo dica alleluia e in tutto il mondo dicano alleluia. Grazie un pochà di Deus e la vostra. Sei Dio in темno. Alleluia. 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 Cantiamo o è Gesù o è Gesù. O es ist Jesus, o es ist Jesus, o es ist Jesus, nur allein. Ich hab verrührt den Saum seines Kleides und sein Blut, es rutscht mich rein. Halleluja! Halleluja! Halleluja!